Nel grande dibattito di come si diventa chitarristi, musicisti, grandi chitarristi, grandi musicisti, improvvisatori, uno degli elementi fondamentali che cerco sempre di trattare in questi video è quello della imitazione come primo passo. Ok? È quello che facciamo un po' nella vita. Il bambino imita il genitore nelle cose che vede fare, prova a farle lui e impara a farle. Cominciamo subito. Adesso vi faccio vedere un paio di dischi, sapete che mi piace farvi vedere i dischi. A Hard Road, John Mayer e i Blues Breakers. Questo è un disco di John Mayer con Peter Green. Ok? Peter Green, Peter Green, chi la resta? Questo ancora prima, Blues Breakers, John Mayer con Eric Clapton. Questo è il famoso disco con Clapton che legge questa rivista, Biano, Biano, come si pronuncia? Qualcuno magari me lo scriva sotto, non ho mai capito. È un disco fondamentale in cui Eric Clapton suona la sua Les Paul in un Marshall con questo suono celestiale e grazie al quale, in seguito a questo disco, cominciò ad apparire sui muri di Londra la scritta Clapton is God. Clapton è Dio, perché era un chitarrista veramente bravo, innovativo, con un gran suono. Insomma, è un chitarrista molto moderno per l'epoca. Sono musicisti che hanno lasciato una traccia fondamentale. Qui c'è Peter Green, insomma, non c'è grande bisogno. Guardate che belli che sono anche dietro, ho bellissime copertine. Perché prendo questi due dischi e poi ne tiro fuori anche un altro, che però non è un disco, ma è un CD. Perché per me il disco è questo, questo lo chiamano venire, ma questi sono dischi. Perché su A Hard Road c'è Peter Green che suona The Stumble. Cos'è The Stumble? Perché cito questo brano? E su Blues Breakers con Eric Clapton c'è Eric Clapton che suona Hideaway. Non mi ricordo se c'è anche qualcos'altro, ma insomma queste sono quelle fondamentali. Cosa sono The Stumble e Hideaway? Sono due brani di Freddie King. Freddie King è uno dei più importanti chitarristi della storia, uno dei più importanti bluesman della storia. Per molti il più grande cantante chitarrista blues della storia. Certo, c'era anche BB King, c'era anche Albert King, i famosi Dre King, c'è anche Buddy Guy. Ce ne sono molti. Freddie King è uno abbastanza interessante. È quello che ha scritto anche in Am Toredown, brani che poi ha reinterpretato Eric Clapton spesso. Oggi li suona Gio Bonamassa. Insomma, per dire, il punto del discorso in realtà vuole andare da un'altra parte. Su questi due dischi si ascoltano due dei più grandi chitarristi blues, rock blues della storia suonare esattamente come qualcun altro. In quel caso, in questo caso, come Freddie King. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire semplicemente che quella fase di imitazione su cui tanto insistiamo, noi intanto come musicisti e poi anche come insegnanti, è formativa per tutti. Non è che io ho copiato i soli di Eric Clapton per imparare a suonare, mentre lui è uscito dal ventre materno con una Stratocaster suonando già come suonava quei Cream. Eric Clapton, a sei anni, quando era alto così o alto così, manco suonava la chitarra, se suonava faceva tre cagadine. Non era Eric Clapton. Ha imparato, è diventato chitarrista meraviglioso, da cui tutti abbiamo preso spunto. Ma non era Eric Clapton per come lo conosciamo oggi. È diventato Eric Clapton grazie all'ascolto di tanta musica che lui amava e che ha implementato nel proprio modo di suonare. No, ha metabolizzato, ha copiato prima di tutto. Ha copiato. Perché come impari a fare una cosa? Copiando. Come si impara a fare tutto? Poi, se sei un artista o se sei qualcuno che vuole sviluppare un proprio linguaggio, una propria capacità di fare le cose, probabilmente, avendolo interiorizzato, metabolizzato, ne tirerai fuori qualche cosa di personale. Ma se non c'è la fase di imitazione, non è che puoi uscire così dal nulla e suonare come Eric Clapton se non c'è stato nessuno prima. È ovvio che questa cosa non succede. Vi faccio vedere un altro disco. Questo è molto interessante, perché qui abbiamo Jeff Beck con i Big Town Playboys. Il disco si chiama Crazy Legs. Jeff Beck, come parlare di un genio come Jeff Beck, un chitarrista assolutamente innovativo, con dei suoni incredibili, che ha tirato fuori dallo strumento una voce che è talmente unica che è immediatamente riconoscibile. Eppure Jeff Beck era un grandissimo amante di Cliff Gallup. Cliff Gallup è un chitarrista di fini anni 50, che è stato per lui importantissimo. Cioè, Jeff Beck evidentemente da adolescente sentiva questi dischi che erano... Immaginate a sentire il rock and roll per un adolescente negli anni 50. Era come vedere un'astronave aliena che scendeva sul pianeta Terra e ci faceva vedere delle cose nuove, no? Diverse. Per lui probabilmente, anzi sicuramente è stato così. Solo che noi oggi abbiamo un'idea di Jeff Beck, con la sua Stratocaster, con la leva, col volume che suona con le mani, tirando fuori questi suoni incredibili. Ah, Jeff Beck non ha cominciato così. Era già fantastico quando ha cominciato, lo sentiamo nelle prime registrazioni degli Yarbers. Era già un chitarrista che aveva assolutamente un'idea innovativa e sapeva che stava andando a cercare qualche cosa di nuovo. Però da ragazzino sentiva Cliff Gallup. Tanto lo sentiva e tanto amava quella musica, che da grande, perché se poi guardate la foto che c'è dentro, è una foto di Jeff Beck da grande, ne ha registrato delle musiche imitando quello stile, suonando proprio in quello stile, per farci sentire una musica che lui amava, per farci sentire probabilmente come a suo modo reinterpretava questa cosa, ma in questo disco non suona come Jeff Beck, suona come Cliff Gallup, che sarebbe sminuente probabilmente, no? Noi oggi diremo, ma come, sei Jeff Beck, perché devi imitare qualcun altro? Perché questa fase qui, questa parte, è talmente importante che negarla sarebbe sciocco. E se un chitarrista importante come Jeff Beck non ha paura di registrare un disco suonando come uno dei suoi idoli, mai bene come uno dei suoi idoli, perché Jeff Beck è stato meraviglioso suonando le sue cose, ma Cliff Gallup è irraggiungibile quando suona quello, se non altro perché è arrivato prima, Jeff Beck l'avrebbe comunque copiato. Ma Jeff Beck non aveva problemi, il suo amore, la sua passione per questo, lo ha portato a registrare un disco di brani non suoi, suonando come non suona lui, semplicemente per amore. Attenzione, non è soltanto l'amore, vi faccio vedere un CD, o anche di vinili, ma vi faccio vedere un disco di Freddie King che si chiama Hideaway, the best of Freddie King. Questo è un disco che dovreste conoscere, tutti dovrebbero conoscere, Freddie King è stato un punto di riferimento assoluto, è inutile paragonare questi musicisti ad altri, non c'è paragone, ci sono soltanto alcuni come loro che hanno avuto un ruolo importantissimo. È molto interessante sentire, come dicevo all'inizio, Peter Green e Eric Clapton suonare come Freddie, perché ci fa capire anche in quel caso che Eric Clapton non aveva nessun problema, o Peter Green, allo stesso modo, non aveva nessun problema a mettere registrate su disco delle performance che non erano neanche le loro, perché Peter Green suona The Stumble come la suonava Freddie King, copiandolo proprio esattamente nota per nota. Quindi dovremmo cercare di togliere, toglierci dalla testa la fase problematica. Che cosa voglio dire con questo? Dovremmo cercare di capire che la fase imitativa, l'imitazione, è assolutamente parte del nostro percorso di crescita. Per cui, se riusciamo a suonare bene come quel musicista, bene come quel musicista, bene come quel musicista, cercando di capire che cosa fanno, cercando di capire cosa ci piace di quello che fanno, cercando di magari analizzare armonicamente, ne ho parlato in diversi video, ma è una cosa che continuerò a fare anche in futuro, se cerchiamo di capire come questi musicisti hanno fatto parte della nostra vita musicale e come inserirli nei nostri discorsi senza farci accorgere. Cito ogni tanto, forse mi avrete già sentito dire questa cosa in una bellissima intervista a Paco Delusia, in un documentario su di lui, Paco Delusia cita Stravinsky e dice, Stravinsky diceva, i grandi musicisti prendono spunto dagli altri, noi geni copiamo direttamente. È una frase molto più profonda, è molto più importante di quello che posso far passare io in un breve video su YouTube. Provate ad analizzarla, è proprio la sintesi di quello che sto dicendo, e cioè, i geni, dice Paco Delusia, e si definisce un genio, non a caso in quel momento, noi geni copiamo direttamente, significa che devi essere così bravo a entrare nella testa di un altro musicista e così bravo a uscirne da non fartene accorgere da nessuno. Non ci deve essere dubbio su questo, si deve sentire l'influenza, ma si deve sentire che tu sei uno in grado di portare il discorso un passo più avanti. Spero di aver dato un piccolo contributo in questa direzione, non abbiate paura di copiare le frasi dei grandi musicisti, sono quelle che faranno la vostra personalità. Se volete diventare scrittori dovete leggere molti libri, se volete diventare registi di cinema dovrete vedere molti film, se volete diventare sculturi dovrete vedere molte sculture, non c'è niente di male, basta che poi alla fine facciate qualche cosa di vostro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.